Giulia Terzi va ad avere, va a ottenere l'orlo, medaglia d'orlo in 100 metri di nuoto femminile, stia libero, categoria S7, paralippia di Titochio 2020 o meglio 2021. Si tratta della quarta medaglia per la ragazza di 26 anni di età di Bergamo, dopo la staffetta 4x100, stia libero e gli argenti, nella staffetta 4x50, stia libero e nei 400 stia libero. Invece l'argento, medaglia d'argento, secondo posto per Stefano Raimondi, nei 100 metri stile farfalla, nuoto, categoria S10, minimazioni fisiche, complimenti a Raimondi, complimenti a Terzi, Giulia e a Stefano Raimondi, ripeto, iscrivetevi al canale narratore italiano, commentate, un saluto mi caro, al prossimo video, grazie a tutti.